Musica Pubblico e privato insieme per la nuova terrazza Petroni Sabato l'inaugurazione dell'area già in parte riqualificata Interventi per 80.000 euro Puliamo il mondo, un selfie per un clima di pace Parte l'edizione 2022 della manifestazione Che quest'anno sbarca sui social In programma la pulizia del territorio e lezioni di raccolta differenziata Film Festival, premio alla carriera Paolo Virzi Al Cinemastra la consegna del riconoscimento al regista Livornese Sprofondo Tau, passa il Flamini a secca sconfitta 0-3 degli Amaranto, puniti da due rigori e poi dal contropiede dei Laziali Momento di paura in avvio di gara per il giovane portiere Carcani Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale Dedicata alle notizie di Lucca, Piana e Garfagnana Lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura In primo piano la riqualificazione della terrazza Petroni Nella zona del Parco Fluviale Sabato prossimo, primo ottobre Una giornata di eventi gratuiti Per scoprire tutte le strutture rinnovate Una giornata di eventi e appuntamenti non stop Dalle 10 alle 18 Sabato primo ottobre al Parco Fluviale Per festeggiare la riqualificazione dell'area Attorno alla terrazza Petroni Rinnovata grazie alla partnership Tra la società di credito Agos E l'amministrazione comunale La collaborazione stretta tra pubblico e privato Ha restituito a Lucca una zona rigenerata Nel segno delle quattro dimensioni Che contraddistinguono i progetti Parchi Agos Green, Sport, Smart e Art Questi canoni alla base degli interventi sui territori In cui la partecipata del gruppo Credito Agricole Banco BPM Opera nell'ambito del piano strategico di sostenibilità Agos for Good Il privato è stato fondamentale perché ha proposto Una rigenerazione, una riqualificazione di una struttura E darà a noi lo stimolo sul quale abbiamo già iniziato a lavorare Per collegare il Parco Fluviale all'area delle tagliate All'area dell'acquedotto E quindi portare una ventata di novità Dal punto di vista ricreativo e dal punto di vista sportivo In un'area che è fondamentale per la rigenerazione della città L'intervento di riqualificazione ha riguardato diverse strutture del parco Per un importo complessivo finanziato Tra gli 80.000 e i 100.000 euro Secondo la stima di Agos Viene riqualificato lo skate park Verranno messe delle colonnine moderne Per affiancare l'attività di running O comunque sia di attività sportiva dei cittadini Vengono messi dei nuovi arredi urbani Come sedie e tavolini Viene riqualificata attraverso un'installazione artistica La torretta dell'Enel Che è fra la terrazza Petroni E appunto lo skate park Nella giornata inaugurale sarà possibile partecipare a laboratori A prove ed esibizioni sportive di diverse discipline Oltre ad incontrare 15 associazioni del mondo dello sport Ma anche del volontariato attive sul territorio Veniamo alla cronaca Incidente stradale sulla via romana All'altezza di Gossi Tra i comuni di Alto Pascio e Monte Carlo Un'auto si è scontrata con un camioncino Ad avere la peggio È stato il conducente della vettura Un giovane di 20 anni di Lucca Che è stato trasportato Con l'elisoccorso Pegaso All'ospedale di Cisanello È ancora un altro incidente Fortunatamente senza gravi conseguenze A San Pietro a Vico Sulla via Permarglia Dove un mezzo pesante Si è ribaltato su un fianco A margine della sede stradale Per far uscire il conducente dall'abitacolo Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco L'uomo fortunatamente non ha subito gravi ferite Ma è stato comunque portato Al pronto soccorso in ambulanza Nell'incidente non sono state coinvolti Altri mezzi o persone In corso di chiarimento Le cause che hanno provocato Il ribaltamento Veniamo agli aggiornamenti Riguardo all'andamento della pandemia Leggiamo assieme i dati relativi Alle ultime 24 ore Aiutandoci con la nostra grafica Sono 1883 I nuovi positivi in Toscana L'età media è di 50 anni Il tasso di positività È al 18,2% Ieri era al 19,1% Sale il numero dei pazienti ricoverati Nei posti letto covid 193 Due invece le terapie intensive In calo di due unità 10 decessi L'età media dei deceduti È di 83,6 anni Uno dei decessi si registra Nella nostra provincia di Lucca 194 è invece il dato Dei nuovi positivi proprio in provincia E stiamo nella piana di Lucca Al via il progetto Puliamo il mondo 2022 Egidio Conca Da giovedì 29 settembre Sui territori di Capannori Alto Pascio e Porcari Tornano i volontari Con le pettorine gialle Di Puliamo il mondo Muniti di cappellino Guanti, sacchetti e rastrello Per togliere i rifiuti Da parchi, corsi d'acqua Strade e piazze La manifestazione Che quest'anno compie 30 anni Si svolgerà fino al 22 ottobre Ed è promossa dal circolo Legambiente Capannori E Piana Lucchese In collaborazione con i comuni coinvolti E le associazioni del territorio Il programma dell'iniziativa È stato presentato Con una conferenza stampa Al comune di Capannori Oltre alle lezioni nelle scuole Sulla raccolta differenziata E alla pulizia di aree pubbliche Quest'anno è stata lanciata Anche la campagna Per un clima di pace Con cui si chiede a coloro Che partecipano alle iniziative Di scattarsi un selfie Mentre compiono la pulizia del territorio Per poi pubblicarlo sui social Con l'hashtag Legambiente Capannori Puliamo il mondo 30 Chi parteciperà alla campagna E visiterà la mostra su riciclo Allestita nella sede di Legambiente Di Porcari Riceverà in omaggio Un oggetto realizzato Con materiali di recupero Quest'anno ci siamo superati Abbiamo incluso tantissime scuole Nel nostro itinerario Andremo quindi a fare Tante lezioni ambientali Tante uscite con i ragazzi Tantissime uscite con i territori Cioè con le associazioni e i cittadini E quest'anno abbiamo anche una novità Faremo una mostra Con dei materiali di riuso Riciclati Un altro grande appuntamento Per proseguire nella lotta Contro l'abbandono dei rifiuti Per continuare a spingere al massimo La raccolta differenziata E questo non solo come momento Per dare tutti una mano A vivere in un territorio più bello E più curato Ma anche come un tassello importante Per la lotta ai cambiamenti climatici Il Lucca Film Festival Alla serata di Paolo Virzi Il regista e sceneggiatore livornese Ha ricevuto il premio alla carriera Paolo Virzi Sul tappeto rosso del Lucca Film Festival Il regista e sceneggiatore livornese Tra i grandi ospiti di questa diciottesima edizione Della Kermesse cinematografica Ha ricevuto al Cinemastra Il premio alla carriera Un riconoscimento che celebra 28 anni Di grandi successi Da ovo sodo a tutta la vita davanti E poi ancora La prima cosa bella Il capitale umano La pazza gioia Fino all'ultima pellicola Siccità Presentata all'ultima mostra del cinema di Venezia Il film interpretato da un ricco cast Che comprende Monica Bellucci Sara Serraiocco Silvio Orlando Valerio Mastandrea Edoardo Purgatori E Vinicio Marchioni Porta sul grande schermo La minaccia Del cambiamento climatico Ambientato in una Roma Dove da tre anni La siccità devasta la città E la mancanza d'acqua Ha cambiato la vita di ognuno Mentre regole rigide Si aggiungono alla sofferenza delle persone Strani personaggi Girovagano Per le strade della capitale E marginati Persone di successo Vittime e malfattori Fanno tutti parte Dello stesso tragico quadro E sono tutti alla ricerca Della stessa cosa La redenzione Sedici anni Devi ridere Innamorarti Mi piace uno Eh beh non so E' un po' in solito Quando è che abbiamo smesso di essere felici io e te? Non sono mai stata felice Prontissima Allora Che futuro ci aspetta? Birzi sul red carpet Ha avuto anche modo di commentare Il ruolo L'importanza di festival Come quello lucchese E ha poi anche elogiato Il legame della Kermess cinematografica Con la città Sentiamo però direttamente le parole Del regista Ai nostri microfoni Importante per Per il pubblico Per i Per coloro che magari Non hanno l'occasione Di avere sott'occhio Le programmazioni E certe cinematografie Magari più rare Quindi festival Hanno dei Dei doveri Anche di diffusione Di cinema non commerciale Quindi in questo senso Poi vabbè Lucca è una città Deliziosa Che io adoro Quindi mi fa piacere Che ci sia un film festival Che vedo E fatto con lo stesso Meticoloso amore Con cui Lucca vuol bene a se stessa Mi viene conferito Questo riconoscimento Alla carriera Che Mi Mi fa molto piacere Allo stesso tempo Mi fa disperare Perché insomma Significa che L'orologio dell'età Si è messo a ticchettare Ma io Cercherò di fregarvi tutti E di Non diciamo Esaurire Così rapidamente Come un premio del genere Prevede La mia carriera A Barga Enrico Vanzina Presenta Diario Diurno A Barga è salito Nell'ambito di una serie Di iniziative Ed incontri Legati a Giovanni Pascoli Ma non solo Il regista Enrico Vanzina Che al Cinema Roma Ha incontrato i ragazzi Delle scuole medie E delle superiori Dell'ISI di Barga Vanzina ha parlato Di Pascoli Ricollegandoli In particolare A Pierpaolo Pasolini Nel centenario della nascita Ed ha presentato Il suo libro Diario Diurno Che è uno specialissimo Diario di dieci anni Dove racconta La sua vita L'Italia Dalla crisi economica Del 2011 Alla crisi legata Al Covid Vanzina naturalmente Con i giovani Ha parlato anche di cinema Ma quanto è difficile Nell'era delle piattaforme web E dello streaming Avvicinare oggi I giovani al cinema È cambiato molto Si sono Si sono arresi Al web Ma il cinema Ritornerà Perché il cinema È più forte di tutto Perché è L'immaginazione Al potere L'incontro Organizzato in collaborazione Con l'ISI Barga Faceva parte Del programma Del festival Lucca Autori Presente con il presidente Demetrio Brandi Il festival Iniziato peraltro Tanti anni fa In collaborazione Anche con Noi TV Oggi è una realtà Importantissima Per Lucca Un successo Che indubbiamente Richiede un grande impegno E troviamo proprio La linfa vitale Nel proseguire Questa manifestazione Questo festival Proprio Nel contatto con i ragazzi E in manifestazioni Come queste Infatti organizziamo Anche altri incontri Con le occasioni Tobiniani Della fondazione Maria Tobina E proprio con La fondazione Pascoli In questi appuntamenti Ormai annuali Importanti Che ci permettono Di veicolare Il festival Lucca Autori Anche in questa bellissima realtà Tutto pronto Per la trentatresima Edizione Edizione del Cluster Music Festival Prenderà il via sabato Primo ottobre Nell'auditorium Della Scuola Sinfonia La trentatresima edizione Del Cluster Music Festival Cinque gli appuntamenti In calendario Tra concerti Presentazioni di cd E di libri dedicati Alla musica del presente Coinvolgendo artisti Di livello internazionale In un dialogo Col pubblico Sui temi Della musica Dei giorni nostri Compresa La musica elettronica E la combinazione Con i videoscenici Il primo incontro Sabato Primo ottobre Sarà dedicato Al ricordo di Silvano Bussotti Mentre il giorno successivo Giacomo Brunini Presenterà il libro Sacre Chitarra Entrambi si terranno Alla scuola Sinfonia Mentre i due eventi successivi Saranno alla casermetta Santa Croce Sabato 15 La presentazione di libri E di cd Appena usciti Mentre domenica 16 Ripeto casermetta Santa Croce Sarà dedicato A nuove composizioni Per musica da film Eseguita da Un Ansambla Di violoncelli Il festival si chiuderà Sabato 12 novembre Con un ultimo concerto In diretta streaming Con collegamenti In tutto il mondo A testimonianza Della rete di collaborazioni Che la rassegna Ha saputo costruire Nel tempo Ci saranno delle musiche In prima mondiale Di questi compositori Del Paraguay Del Messico E degli Stati Uniti Ma ci sarà un collegamento Diretto Dove loro diranno Parleranno Dialogheranno Con il direttore Della scuola Dell'associazione musicale Del quale fanno parte In pratica Si sta creando Una sinergia Di associazioni Sparse nel mondo Che portano a giro Le musiche nostre E le musiche Di questi compositori Uno scambio Ecco Di produzioni Che sono importanti In chiusura Lo sport Con la Serie D E la secca sconfitta Del Tau Piove sul Carraie In un grigio Mercoledì pomeriggio Che va a completare La quarta diandata Del girone di Serie D Si gioca A tau calcio Flaminia Civita Castellana Che significa Per De Amaranto La possibilità Di fare il bis Dopo il blitz Di Orvieto Ma la partita Si presenta complicata Anche per l'oggettiva validità Del rosso blu laziale Di mister Nofri Nelle file del Tau Mister Cristiani Fese ordire Dal primo minuto Manuele Giustarini Uno che può dare Contributo sostanzioso Lada avanti Tau Reduce dalla prima storica Vittoria in D3 A 1 sul campo Dell'Orvietana Griffata da una tripletta Del bomber Brega Ma dopo pochissimi minuti Al quarto di gioco Scontro violento Tra il portiere del Tau Niccolò Carcani E l'attaccante ospite Sirbu Carcani rimane a terra Privo di sensi Sono lunghi secondi di paura Il gioco rimane fermo Quasi 5 minuti Poi Carcani Accompagnata L'ospedale di Lucca Per i doverosi controlli Si riprenderà Ma viene sostituito in porta Da Di Biaggio Azione tra l'altro Flaminia Poiché l'arbitro Bellò Assegna il rigore Che all'ottavo minuto L'esperto Sciamanna Trasforma con freddezza Episodio che condizionerà La squadra di Cristiani Che fa molta fatica E questo Flaminia E' davvero tosta come squadra Tuttavia gli Amaranto Oggi Maglia Bianca Provano a reagire Prima con Tommaso Carcani Che impegna il portiere della Pina Dopo azione rifinita sulla destra Dal solito stantuffo Borgia E poi è brega A cercare la via della rete Con alcune conclusioni Dal limite dell'area Che non hanno però Il crisma della precisione Si va a riposo Con il Flaminia in vantaggio Ci vorrebbe una ripresa A tutto gas Anche se su Ghivizzano Continua a scendere la pioggia In realtà il tau ci mette Tanto impegno E attacca a getto continuo Si accende qualche mischia In area laziale Ma nessuna occasione vera e propria Almeno nel primo scorcio Del secondo tempo Poi sono i rosso-blu ospiti A sfiorare il raddoppio Al 27 Con una punizione maligna Di Garufi Che scheggia la traversa Sospiro di sollievo E pericolo scampato Ma ci sarebbe un risultato Da recuperare E non è così Perché poco dopo la mezz'ora Ingenità di Borgia Costretto poi al fallo E di nuovo calcio di rigore Stavolta sul dischetto Vacrus Che fa centro E porta il Flaminia Sul 2-0 Ora è quasi notte fonda Anzi è notte fonda Quando Sirbu Fila via così in contropiede E non lascia scampa di Biagio Per il punto del definitivo 3-0 Giornataccia per il tau Che non riesce a dare continuità La bella vittoria di Orvieto Mentre Flaminia Si conferma squadra Di tutto rispetto La via del riscatto Per gli amaranto di Cristiani Passa adesso Dalla non facile Trasserta di domenica prossima Sul campo della San Giovannese Contro una delle compagini Sicuramente più blasonate Del girone Con questa notizia Chiudiamo questa edizione Del nostro telegiornale La linea adesso Va alla redazione Di Viareggio E della Versilia Grazie a tutti i nostri risultati Grazie a tutti i nostri risultati